La nuova comunità montana è nata da poco grazie ad una fusione, ma ecco che al suo interno presenta già politiche di gestione più localizzate. È successo con il GAL, il gruppo di azione locale, un sistema per sostenere progetti di turismo rurale, valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. Ieri sera con l'assemblea della comunità montana della Valle Seriana è stato costituito il GAL della Valle Seriana Superiore, dove sono confluiti 20 comuni del vecchio ente sovracomunale. Il territorio dell'ex comunità montana più a valle è stato invece diviso in due. Sei comuni, Selvino, Viatico, Gazzaniga, Vertova, Colzate, Fiorano e Serio, sono confluiti con il GAL della Valle Brembana, mediante anche la sottoscrizione di aumento di capitale sociale. I restanti sono ora interessati dal GAL del Monte Bronzone e Valle Cavallina. Il territorio risulta così interessato da tre GAL, ognuno dei quali sarà in grado di avanzare progetti per richiedere finanziamenti. Il presidente della comunità montana, Ili Pedretti, si dice comunque soddisfatto. Il gruppo di azione locale della Valle Seriana Superiore si configura come un'agenzia di sviluppo locale, i cui interlocutori sono le istituzioni pubbliche, gli operatori economici dell'area, le associazioni di categoria, le associazioni culturali, le strutture sanitarie, assistenziali e le organizzazioni ambientaliste. Il programma è orientato al miglioramento della qualità della vita ed affrontare progetti di intervento sul territorio dell'area montana. L'obiettivo è di ottenere finanziamenti comunitari o regionali. Insieme alla comunità montana ci sono otto soci privati, col diretti, agrifidi, consorzio forestale presolana, confcooperative, irrisimpianti di risalita, astralbergatori, banca di credito cooperativo a Valle Seriana e banca popolare di Bergamo, che detengono il 50,01%. Il CDA sarà composto da tre membri di maggioranza e due dei restanti membri dell'Assemblea. È sicuramente un modo intelligente per migliorare la qualità della vita in Alta Valle e nei comuni che sono stati inseriti nei progetti, conclude il Presidente Eli Pedretti. Oggi è fondamentale aderire a questi gali insieme a questi solidi e credibili soggetti privati per poter accedere ad importanti finanziamenti comunitari e regionali. Durante l'Assemblea è stata inoltre istituita una nuova Commissione Statuto. Entro sei mesi è infatti necessario adeguare questo documento ai nuovi indirizzi previsti dalla legge regionale 19. Il Direttivo ora sta inoltre affrontando il problema relativo al personale. I dettagli sono attesi durante la giornata di domani. Il Direttivo ora sta inoltre istituita una nuova Commissione Statuto. Il Direttivo ora sta inoltre. 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 Il Direttivo ora sta inoltre.